Questa è un bug, se sono soffresa o ben, dovete andare nel percorso per prendere il ravitagno e saltare tutti i tasti possibili, vedete che la sera è chiusa, direte voi che se lo tocco, per dire che lo attacca nante, però come potete vedere, come se il campo non esistesse, anche se non clicco i tasti, non importa, il campo ogni volta che lo passo sparisce, per poi ritornare, quando rientri. Adesso vi farò vedere come far crescere le tette a una donna, a presto i terti, quando vi ritrovate davanti alla donna delle gare, fatevi tantissime capriole laterali, e come potete vedere, piano piano le tette aumentano di grandezza, l'importante è che possa vedervi, mentre lo faccio. Adesso vi farò vedere come potete vedere. Sempre a Blackwater City c'è un altro bug che consiste nell'andare nella pista dell'overboard a piedi. sicuramente vi starete chiedendo che questo bug di stagione è la versione originale, che consiste nell'andare nella donna delle gare con l'olomasker attivato. Quello in cui stiamo giocando adesso è la versione Platinum, e questo metodo in cui vi ho detto poco fa non funziona, però ne esiste un altro che funziona in tutte e due le versioni. Innanzitutto dovete stare nella zona della roulotte di Quark, dove c'è la guardia del corpo, e andare in uno spigolo preciso, esattamente quello lì. Ora dovete stare vicino al palazzo verde e buttarvi a voi molti quanti esca. Dovono essere belli stretti. Ecco, come state vedendo è entrato, sono entrato, e sono dentro. Ora che sono qua dentro potete prendere Bolt infiniti, un altro bug che dovete andare nel salto più alto della gara, che ora vi sto arrivando, e usare il provocatore nelle casse che stanno sopra di voi. In questo caso i Bolt scenderanno all'infinito, e l'infinito finirà quando voi avrete smesso di premere il provocatore. Come potete notare, le dinamiti, anche se esplodono, non vi fanno niente. perciò potete camminare tranquilli. Se vi girate, se rompete delle casse e vi girate in cui la visuale e le casse spariscono, vedrete che ritorneranno magicamente. Gli M e Boi, invece, saranno lì ma come se non vi vedranno, come se siete invisibili per loro. Però potete ucciderli tranquillamente, ma silenzosamente, senza emettere alcun suono. Come avete visto. ecco, ora abbiamo raggiunto il salto più alto. E come potete vedere, là ci sono delle casse, che le casse si possono prendere con l'overboard. Ora dovete stare sotto la piattaforma, sotto la piattaforma, e azionare il provocatore, che ora sto pazientemente prendendo. Una volta preso, ora dovete tenere sempre premuto cerchio. E come vedrete, le casse sopra si spaccheranno. Ma come vedrete, si spaccheranno sempre e quindi lasceranno cadere dei bolt. Questo bug funziona anche nella versione originale, però con un metodo più semplice. Quindi, se volete prendere il mix, potete usare questo metodo. Metodo inizio Grazie a tutti.